Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di CodeIgniter faremo una breve interruzione a questo framework PHP quindi un framework scritto in PHP e che serve per fare applicazioni web usando il linguaggio di programmazione lato server PHP ok, allora perché utilizzare un framework? il framework, vedete, lo dice anche qua fare un'applicazione web seria, parliamo di lavori professionali ovviamente non della didattica che facciamo a scuola dove vediamo sempre dei piccoli pezzettini e non riusciamo mai a fare qualcosa di veramente completo e veramente, diciamo, da pubblicare, professionale quindi oggi si utilizzano, molte aziende utilizzano i framework perché ovviamente mettono a disposizione dei tool che semplificano la vita al programmatore e permettono anche di lavorare bene e meglio e in maggior sicurezza allora, qui vediamo, ho preso due siti se volete puoi andare a questo di giuseppefava.com che vi parla dei sette framework più famosi c'è questo Laravel che sembra che sia una bomba ma è anche difficile da usare qui c'è un po' tutto quello che può fare un altro framework molto famoso è Symfony anche qui trovate le caratteristiche, eccetera qui un altro framework e poi abbiamo anche qui le varie caratteristiche e alla fine abbiamo anche CodeIgniter che è quello di cui parleremo noi allora, perché usare CodeIgniter e non un altro? l'Aravel è primo in tutte le classifiche ma è decisamente pesante e complicato da usare questo CodeIgniter è abbastanza facile da utilizzare e quindi si può utilizzare questo qui ci sono le maggiori caratteristiche migliore soluzione e poi c'è il... qui vediamo per esempio è un framework di tipo MWC per esempio qua MWC model view control cioè usa il pattern model view control per lavorare e quindi anche qui vedete l'Aravel pro, contro, Symfony kick, kick, php questo è i CodeIgniter è qui in quinta posizione ma non vuol dire assolutamente nulla anzi, per quanto mi risulta il Politecnico di Torino utilizza CodeIgniter per, diciamo per i suoi studenti o per sviluppare siti quindi, perché lavorare con un framework? perché i framework? perché i framework sono... aiutano lo sviluppatore quindi si riesce a fare un sito web in termini più veloci e con maggiori sicurezze possiamo trovare anche... io ho trovato questo sito che è carino qui ci avete il link che insomma vi spiega un pochettino fa un po' di spiegazioni data di rilascio aumentare la sicurezza vi spiega un po' come è fatto trovate tutte le... come installare e configurare quindi scaricare XAMPP oppure se avete Mac oppure se avete Linux vi spiega e vi dà delle indicazioni di base su come va configurato eccetera molto utile come configurare il database e tutto quanto quindi è una guida che potreste utilizzare in seguito altra cosa importante che si può cliccando qua e poi cliccando ancora mettiamo l'italiano qui e cliccando ancora qui vediamo se funziona ecco c'è un bel ebook gratuito che vi potete scaricare insomma ve lo spiega bene vi un po' di pagine a quanto pare quindi avete anche diciamo un supporto PDF ma torniamo al nostro framework ovviamente per poterlo utilizzare per utilizzare qualunque framework è necessario avere è necessario avere la documentazione ufficiale quindi se scrivete Codigniter qui oltre a trovare il sito ufficiale trovate qualcosa su wikipedia trovate tutta una serie di tutorial che in italiano o in inglese che spiegano un pochettino come usarlo eccetera noi adesso andiamo a vedere invece il sito ufficiale il sito ufficiale si atterra qui dentro questo è il sito ufficiale di Codigniter ovviamente posso fare il download per poter lavorare con questo framework che cos'è? un normalissimo file zip come vedrete nei filmati successivi lo utilizzeremo e quindi insomma vedrete come funziona basta scaricare il file zip quello che adesso vediamo invece è la documentazione qui abbiamo il manuale che è questa roba qui ovviamente posso fare mi spiega innanzitutto cos'è Codigniter le istituzioni per installarlo fare gli aggiornamenti troppo sciolti alcune informazioni vedete il config queste sono informazioni di cui ne parlavo anche prima due informazioni su Codigniter come partire qui ci sono le prestazioni di Codigniter tutto quello che può fare un bel elenco ecco quello che mi interessa vedere è questo application frociato giusto per capire come lavora Codigniter Codigniter ha una serie di questa è la pagina index.php è la pagina a cui parte tutto poi c'è il routing vedremo dopo che è praticamente il file di configurazione delle route cioè delle pagine poi c'è il blocco della sicurezza alla fine si arriva sull'application control che è uno script PHP che viene chiamato controller che si interfaggia con i modelli quindi questa diciamo è la vista qui abbiamo il controllo e qui abbiamo il model si interfaccia con i modelli che poi a loro volta si interfacciano con i siti web cioè scusate con i database e poi invece abbiamo una serie di librerie o di plug-in che permettono di lavorare col controllo per esempio gli helper servono per gestire i form quindi ci sono tutta una serie di script già fatti per gestire i form fare il controllo lato server prendere i dati col metodo get gestire le sessioni eccetera abbiamo una serie di librerie che gestiscono gli URL eccetera poi le vedremo quindi sostanzialmente le vedremo poi dopo questo più che altro per capire un pochettino come funziona abbiamo il tutorial quindi qui è un tutorial che spiega passo passo come lavorare quindi qui vi spiega esatto vi spiega come funziona la struttura di code initer come passare gli argomenti quindi richiamare il controllo poi il metodo e poi passare eventualmente un argomento ci sono degli esempi seguendo il controllo cioè il controllo del tutorial si può fare una piccola esercitazione poi importante abbiamo poi ovviamente il database reference qui abbiamo tutti i comandi per usare il database quindi tutte vedete le funzioni load database tutte le funzioni che mette a disposizione il nostro framework io avevo trovato anche qui sopra vediamo se è lo stesso user guide 2 è un altro link che vi faccio vedere velocemente che secondo me è fatto un pochettino meglio perché avete tutti i comandi questi sono i comandi per il database per esempio per per visualizzare per fare una select su tutti i dati di una tabella il comando utilizzando il freno sarà dollaro query this db get my table ed è l'equivalente di scrivere select asterisco from my table cioè dammi tutti tutti i record di tutti i campi della tabella my table e fa tutto lui fa la connessione al database mi estrae i dati e me li restituisce e me li mette dentro questa variabile quindi qui per esempio abbiamo tutti i comandi per inserire i dati il comando insert quindi c'è tutto il crude quindi questo è anche comodo questo link prendetelo tenete da conto perché è ben fatto io direi che possiamo quindi ovviamente c'è tutte per esempio le funzioni di helper quindi le funzioni di helper sono i vari metodi per gestire sempre il database poi qui abbiamo per esempio le librerie ha un sacco di librerie per esempio per gestire le mail oppure per fare la criptografia oppure per gestire che ne so l'FTP vediamo se c'è la ecco sull'upload sull'upload per esempio se devo fare l'upload cioè se il vostro form prevede l'upload sul sistema di che ne so di immagini di di documenti posso gestire questa libreria e mi da tutti i riferimenti su come gestire la libreria per l'upload vedete multipart upload quindi abbiamo una serie di librerie già predisposte già pronte bisogna ovviamente impararle a usare per usarle se non ho la documentazione non posso farci nulla mi fermerei qui direi che per il momento abbiamo dato una panoramica generale nella prossima puntata vedremo come come creare un progetto vero e proprio utilizzando questo framework quindi abbiamo visto vari tipi di framework qui potete andate a leggervi questi link qui scaricatevi l'ebook può essere comodo e comunque in tutti i casi avete la guida online qui sopra o anche questa qua che è riferita esclusivamente ai database è la versione 2.2.6 ma insomma forse non è aggiornatissima ma come riferimento per i comandi fondamentali va bene è tutto a risentirci alla prossima puntata la prossima Grazie a tutti